Domenica 4 dicembre 2016 si svolgono le operazioni di voto per il referendum costituzionale per l'approvazione del testo per la legge costituzionale concernente, disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte 2 della Costituzione. approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. A Tolentino si vota domenica prossima dalle ore 7 alle ore 23 nelle consuete 19 sedi dei seggi elettorali. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti dopo le ore 23 di domenica 4 dicembre. Per esercitare il proprio diritto di voto bisogna presentare la propria tessera elettorale ed un documento di identità valido. La tessera elettorale si rinnova presso gli uffici elettorali dei comuni di residenza. A Tolentino gli elettori sono in totale 15.012, di cui 7.177 maschi e 7.835 femmine, esclusi gli elettori residenti all'estero. La sezione elettorale con il maggior numero di iscritti è la numero 10, con 1.062 elettori. Due gli elettori più giovani, Anas Cifa e Giulio Paciaroni, essendo nati lo stesso giorno e cioè il 28 novembre del 1998, mentre l'elettrice più giovane è Federica Tartaglia, nata il 21 novembre del 1998. L'elettrice più anziana invece è Pierina Salvucci, nata il 21 febbraio del 1914. L'elettore più anziano è Marino Esposto Cesolari, nato il 16 aprile del 1913. Si invitano tutti gli elettori a controllare attentamente la propria scheda elettorale e di verificare se questa è completa, se riporta i dati esatti dell'elettore e della residenza dello stesso e se si è deteriorata. Chi avesse bisogno di una nuova tessera elettorale si può rivolgere all'ufficio elettorale del Comune di Tolentino, in via San Salvatore numero 3. L'ufficio rimarrà aperto venerdì 2 e sabato 3 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18 e anche domenica 4 dicembre, dalle ore 7 alle ore 23. Per consultare i dati sull'affluenza alle urne e i risultati elettorali, ogni cittadino può collegarsi con il sito www.comune.tolentino.mc.it, potendo accedere al link speciale referendum costituzionale 2016. I dati relativi all'affluenza alle urne saranno comunicati alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 di domenica 4 dicembre. Per maggiori informazioni si può contattare l'ufficio elettorale del Comune di Tolentino, telefonando al numero 0733 901250.